Io penso che noi siamo qui, sono gli animalisti italiani, gli animalisti italiani. Noi siamo qui perché non vogliamo che la politica diventi questa sceneggiata che offende le idee per cui non vi battete perché vi battete per voi stessi e il vostro ego. Vi prego di fare un grande applauso che sommergerà questa ipocrisia. Grazie. Chi non rispetta le idee degli uomini non può essere degno di rispettare neanche gli animali. E vi dovete vergognare per la strumentalizzazione che fate rispetto a un tema così nobile, solo per difendere il vostro ego e la vostra presunzione. Vi dovreste vergognare e andare forse anche da qualche psichiatra, ma molto bravo. Se la democrazia può vincere vi pregherei. Ci fate continuare.